ciao a tutti amici del triple oggi ci proviamo questo nuovo arrivo in casa adidas a di zero select proviamo sicuramente una scarpa diversa da quello a cui siamo abituati in questi tempi recenti perché la scarpa è molto più imbottita è molto più pesante è molto più spessa ma molto confortevole allo stesso tempo l'imbottitura è veramente molto morbida come ammortizzazione troviamo il nostro amato light strike bello morbidoso e abbiamo anche un ottimo grip secondo me l'unica pecca che abbiamo ripeto la scarpa un po più pesantina siamo circa sui 440 grammi ma comunque calzatura super valide